47 frezza blu secondo me si è cambiata molto esclamò betti 40 anni segnati da un passato agitato una frezza blu nei capelli trucco all'ultima moda un gusto casual nel vestirsi ma un portamento che tradiva il suo passato facevano di adelaide la compagna del farmacista cui betti parlava una donna e cui difetti apparivano più evidenti delle qualità in tono di compiacimento betti aggiunse però adesso hai un inizio di aria angelica la risata di adelaide sovrastò le voci della festa beh vedi disse da molto tempo mi sono chiesta dove sbagliavo nel mio vivere quotidiano mi ero accorta che c'era qualcosa sotto nascosta dietro le mie azioni e a differenza di prima ho cominciato a vivere interiormente prima non mi veniva mai di chiedermi se la mia azione era giusta di chiedermi dov'era che avevo sbagliato e adesso lo fai chiese betti interessata sì anche se mi accorgo che non so fare a meno della frezza blu ma intanto sei consapevole che la frezza blu ti appartiene sempre di meno disse betti sì sono certa che se continuo così prima o poi l'abolirò ammise adelaide che si continuo così prima o poi l'abolirò ammise adelaide